Vivere insieme nello stesso appartamento non è più una prerogativa dei giovani. Anche i pensionati, soprattutto quelli rimasti soli, cercano qualcuno con cui condividere l'abitazione. Un fenomeno ribattezzato silver co-housing. Se da una parte la convivenza è motivata dalle ristrettezze economiche dei più anziani, dall'altra è una buona occasione per avere compagnia. I dati Istat sulle pensioni del 2012 rivelano che il 42,6% dei pensionati ha percepito una pensione inferiore a 1.000 euro al mese, mentre l'1% ha un reddito che supera i 5.000 euro al mese. Ma non è solo una questione di difficoltà economiche a spingere gli anziani a cercare un coinquilino. C'è anche il bisogno di compagnia. Secondo i dati del Cresme, Centro Ricerche Economiche e Sociali, circa 7 milioni di persone vivono sole e 3,5 milioni sono anziani. Come fanno gli anziani a trovare un coinquilino? Chi ha più dimestichezza con Internet si affida agli annunci gratuiti online, mentre chi ha meno confidenza con la tecnologia si rivolge alle associazioni che si occupano di co-housing. A rivelare la tendenza è stata una recente indagine fatta dal sito di annunci gratuiti Kijiji. Negli ultimi sei mesi sono cresciuti del 18% gli annunci di persone anziane che vedono nella condivisione della casa un valido aiuto per risparmiare sulle utenze domestiche e sulle spese di gestione casalinghe. Ma non ci sono solo i privati. Esistono anche inserzioni di case famiglia che offrono sistemazioni temporanee o permanenti agli anziani. I pensionati però non cercano solo coetanei per condividere la casa. Spesso gli over 65 offrono posti letto anche agli studenti universitari. Esistono infatti associazioni che coniugano domanda e offerta e consentono a chi studia fuori sede di trovare un alloggio a prezzi ragionevoli e a chi ospita di avere compagnia e risparmiare sulle spese.